Hai provato a cambiare lo sfondo di una foto ma ci hai messo ore e i risultati sono stati deludenti? Quando ci sono dettagli minuscoli magari su uno sfondo un po' confuso scontornare una foto può diventare un incubo terribile. In questa recensione di Topaz Mask AI ti mostro come scontornare persino i capelli in modo veloce e preciso e come cambiare lo sfondo di una foto con o senza photoshop. Alla fine del tutorial ti dico anche come risparmiare un bel po' di soldi semmai volessi acquistare questo software. Dopo la sigla! Ciao sono Mariano di videozappo.com. Questo canale tratta di fotografia e di video. Troverai guide, prove e tutorial proprio come quello di oggi. Se non lo hai già fatto iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto e schiaccia la campanella per attivare tutte le notifiche in modo da non perdere i prossimi video. per tutti i link ai prodotti e alle risorse di cui ti parlo in questo video come al solito dai uno sguardo alla descrizione qua sotto dove trovi anche il link al mio negozio amazon per comprare quello di cui hai bisogno evitando delusioni. Topaz Mask AI è un software basato appunto su intelligenza artificiale molto molto recente. La sua interfaccia come vedi è semplicissima c'è un pulsante per aprire la foto. Il software è in inglese ma vedrai che gli strumenti che ci mette a disposizione sono ultra intuitivi quindi la lingua dell'interfaccia conta veramente poco. Quello che mi sono chiesto è serve davvero un software per scontornare? Se hai photoshop come nel mio caso che pago un costosissimo abbonamento alla creative cloud photoshop ci mette a disposizione degli strumenti anche molto avanzati per scontornare ma quanto sono facili da usare e quanto sono efficaci? Ora nell'ultima versione la 2020 è migliorata il Sensei l'algoritmo di intelligenza artificiale di photoshop e sicuramente si sono visti dei miglioramenti anche per quello che riguarda proprio la selezione quindi lo scontorno delle foto. Ti voglio far vedere oggi un caso pratico che è quello che io faccio praticamente come avrei visto su ogni icona dei miei video su youtube questa è l'icona che andrò a fare per questo video e voglio semplicemente mettere davanti a questa bella foto di una spiaggia tropicale la mia faccetta buffa che però ha questo sfondo che è piuttosto complicato da eliminare ora in photoshop come faresti ti faccio vedere una versione semplificata togliamo un po di roba davanti questo è semplicemente uno smart filter per dare una sistematina alla foto l'immagine in uno smart object per semplificarti la vita ha converto in un livello normale così facciamo un pochino prima ora nella nuova versione di photoshop c'è questo fantastico pulsante che si chiama rimuovi sfondo proviamo a schiacciarlo e l'intelligenza artificiale di photoshop fra il resto però vedi che abbiamo avuto un pochino di difficoltà perché ha fatto dei discreti guai annulliamo e proviamo andare con il vecchio sistema seleziona soggetto come prevedibile ha selezionato esattamente le stesse cose che avevamo visto prima però a questo punto possiamo prendere la nostra selezione intelligente e per dirti ecco aggiungere questa parte aggiungere questa parte diciamo che vogliamo accontentarci di questa situazione creiamo la nostra maschera e questo sarebbe il nostro risultato che è tutt'altro che malvagio se vuoi ma se fai caso qui intorno è abbastanza bruttino possiamo sicuramente agire sfumando leggermente la maschera e questo è quello che faccio praticamente ogni volta per creare le icone dei miei video mi accontento di questo risultato che in fin dei conti non è malvagio e per lo scopo per cui andranno utilizzate queste icone è più che sufficiente non serve praticamente nient'altro questo perché ho photoshop nella realtà per arrivare a questo punto qui diciamo quindi l'immagine con le sue scritte sopra ci sono tanti sistemi questo è per esempio quello che ho fatto in tre minuti con spark spark è un prodotto che si può utilizzare sia via web che con il cellulare è gratuito e ti permette ecco in pochi secondi di ottenere presso a poco questo risultato ma se ora volessi mettere il mio faccione su questa immagine e ovviamente non disponessi di photoshop avrei un grosso problema ti faccio vedere poi come possiamo fare torniamo al nostro photoshop ci duplichiamo questo livello ci togliamo la maschera e ti faccio vedere come possiamo utilizzare mask ai come plugin di photoshop e quale risultato possiamo ottenere creiamo una maschera su questo livello perché almeno poi quando torniamo in photoshop ci troveremo il lavoro bello che è fatto ora andiamo su filter topaz lab e topaz mask ai viene aperto il software e caricata automaticamente l'immagine a questo punto quello che ti dicevo abbiamo questi strumenti abbiamo il pennello di tre colori e il secchiello di tre colori il pennello blu serve ad indicare al software il bordo della nostra maschera deve essere fatto in maniera grossolana e indica praticamente al programma quali saranno le zone da considerare quindi dove deve capire se c'è il soggetto o se c'è lo sfondo il rosso sono indicate le zone che andranno senz'altro tolte e in verde quelle da tenere in questo caso vedi abbiamo un confine chiuso quindi io posso tirare una secchiata di verde e in questo momento il software sa che tutto questo va attenuto quello che ho indicato in blu va capito e quello che è indicato in rosso va senz'altro eliminato utilizzeremo l'algoritmo a intelligenza artificiale in questo momento poi ti faccio vedere che potremmo fare anche diversamente e schiacciamo il pulsante per calcolare la nostra maschera maschera i ci impiegherà un pochino in questa fase ma nulla di trascendentale chiaramente dipende dalla risoluzione della foto e dalla complessità della maschera da generare quindi da quanti dettagli vanno analizzati questo è il nostro risultato finito possiamo utilizzare vari tipi di visualizzazione quando siamo in questa visualizzazione intera possiamo decidere se vedere l'originale la maschera quello che viene tenuto quello che viene tolto noi sceglieremo quello che viene tolto per capire bene come è andata questa maschera abbiamo la possibilità di utilizzare vari tipi di sfondo io quello con cui mi trovo molto bene a questo che è una sfocatura della quale possiamo decidere l'intensità a me piace generalmente ecco abbastanza sfocata e in questo modo capisci molto facilmente se ha fatto guai e vedi che dei guai ci sono per sistemare questi guai passiamo sulla maschera in modalità contrasto e lasciamo attiva questa opzione perché in modalità contrasto perché altrimenti ci metterà un'eternità perché deve ricalcolare tutta la maschera vedi che qui ha tolto delle cose che non andavano tolte e per farglielo capire prendiamo il pennellino verde e gli diciamo guarda che qui è sbagliato e vedi che il software capisce più diciamo di quanto tu gli dica qui ha di nuovo messo un dettaglio che non doveva mettere e andiamo a dirgli toglilo così come vedi anche qua ha fatto circa la stessa cosa possiamo prendere un pennello un po più piccolo e se vuoi poi ingrandire con la rotella del mouse da questa comoda interfaccia di poi spostare diciamo che così possiamo ritenerci soddisfatti questa è la nostra immagine volendo abbiamo dei controlli per rifinire il bordo della maschera ma nel nostro caso direi che questo non si rende necessario a questo punto schiacciamo e play che significa applica e il software ci riporta all'interno di photoshop spegniamo il lavoro fatto da photoshop e questo è il risultato che abbiamo ottenuto con topaz maschera e secondo me ha fatto un lavoro un pochino più sofisticato qua sui capelli ed è andato pressa poco diciamo alla stessa maniera qui sulla mano che non è perfetta in nessuno dei due casi così come non è perfetto qui in ogni caso abbiamo a disposizione la nostra maschera che potremmo tranquillamente rifinire come meglio crediamo per esempio vedi qua ci sta questo brutto pezzo che evidentemente non c'entra niente possiamo metterlo a posto possiamo migliorarne magari leggermente il contrasto possiamo fare tutto quello che normalmente si fa su una maschera io ti dico la verità se hai photoshop l'utilità di questo mask ai la vedo abbastanza poco sicuramente per certe cose è comodo perché adesso abbiamo visto la foto di una persona io ho provato che ne so a scontornarci degli alberi e ti dico in photoshop è veramente parecchio più dura perché quando non capisce devi mettere a mano a sistemare delle cose e invece con un po di pazienza con maschera si ottengono eccellenti risultati anche in questo caso posto che io normalmente gli alberi non riscontorno quindi mi interessa relativamente poco in questo senso però se hai photoshop sinceramente spendere comunque una cifra abbastanza importante per questo plugin avendo quei soldi per dirti mi comprerei senz'altro sharpen ai che è fenomenale e molto 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 più potente di quello che riesce a fare photoshop l'ho già provato sul canale e te lo linko nella descrizione qua sotto e nella card sopra la mia testa ma te lo linko anche alla fine del video così se vuoi poi guardarlo più tardi con comodo dunque questo è il nostro risultato finito con photoshop e lo hai visto prima di caricare questo video adesso voglio farti vedere come usare mask ai da solo in modo tale che possiamo finire quel progetto che avevamo cominciato in spark semplicemente mi vado appunto ad aprire l'immagine che è questa qua e rifaccio rapidamente tutte le operazioni che ho fatto prima ok ipotizziamo che sono soddisfatto scusa se sono andato veloce ma sono esattamente le stesse operazioni che abbiamo visto prima concentriamoci sulle differenze a questo punto posso fare due cose posso utilizzare come sfondo un'immagine caricarmi la mia immagine di sfondo ed avere quindi il lavoro bello che fatto posso girarla per averla come l'avevo dall'altra parte sull'immagine qui dietro oppure tutta questa serie di controlli per cui per dirti appunto posso cambiarne un po l'esposizione volendo addirittura posso un po sfogarla per creare un effetto vedi un tantino più naturale anche se poi insomma così naturale non lo è posso fare una serie di operazioni purtroppo non posso fare nulla sull'immagine che ho messo qui davanti nel momento in cui vado a salvare questo risultato io posso fare una serie di cose se schiaccio composite salvando l'immagine così come l'ho fatta quindi con lo sfondo che ho sostituito ma quello che andrò a fare io invece salvare l'immagine trasparente posso anche salvare soltanto la maschera semmai ne avessi bisogno e salvare il lavoro fatto con topaz mask nel nostro caso di ripeto andiamo a salvare in trasparente schiacciamo save che vuol dire salva e l'immagine è stata salvata la troviamo nella stessa cartella con il nome cambiato eccola qua vedi è appunto trasparente con lo sfondo bucato a questo punto possiamo tornare nel nostro spark per esempio nell'applicazione che preferisci e aggiungere la nuova immagine la foto e sul computer e questo qui con le png trasparenti spark ci impiega un pochino a fare i suoi calcoli ed ecco qui spark ha capito perfettamente che la immagine è trasparente la posizionata sopra e a questo punto la possiamo liberamente disporre nel punto che preferiamo ecco qua abbiamo creato la nostra icona per il video su youtube utilizzando spark un servizio online oltretutto gratuito e maschi per scontornare come ripeto se photoshop probabilmente non è il migliore investimento che tu possa fare ma se invece photoshop non ce l'hai è veramente una figata perché ti consente di scontornare in una maniera estremamente semplice il risultato sono confidente conoscendo topaz lab che migliorerà col tempo perché il database dell'intelligenza artificiale viene costantemente arricchito e quindi i risultati tendono a migliorare se vuoi acquistare questo software ti lascio in descrizione il link sia per scaricare la versione di prova così puoi vedere se fa al caso tuo che eventualmente per acquistarlo ma se vuoi acquistarlo prima di pagare al check out inserisci il coupon video zappo che ti darà uno sconto del 15 per cento topaz lab fa spesso offerte promozionali e anche durante quelle offerte promozionali il codice video zappo ti dà comunque un ulteriore sconto appunto del 15 per cento che te ne pare di tutta questa intelligenza artificiale stiamo esagerando fammelo sapere nei commenti qua sotto se ancora qui il video ti è piaciuto non essere timido fammelo sapere e schiacci il pollice su da uno sguardo al video qua accanto dove ti parlo di un altro software di topaz lab sharpen ai mi ha fatto veramente gridare al miracolo se vuoi darmi una mano con il canale condividi questo video sul tuo facebook o sul tuo twitter e se vuoi pagarmi un caffè trovi il link in descrizione comunque grazie per aver guardato questo video ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video